Appuntamento con la prima vittoria in campionato rimandato per l'Avezzano che non va oltre l'1-1 contro il Delfino Flaccoporto. Succede tutto nel primo tempo, Marsicani avanti con Spinola, ospiti Caparbi a impattare il risultato con la splendida rete di Tine Mori, il migliore tra i suoi. Il pareggio tra l'Achieti e l'Aquila tiene a galla l'Avezzano nella rincorsa al primo posto ma non smorza il rammarico per un match che ai punti la squadra di Torti avrebbe meritato di vincere. La cronaca si apre dopo 90 secondi di gioco quando è Petri a mettere per primo i brividi a Patania. L'attaccante dei pescaresi si ripete due minuti dopo con la girata facile preda del portiere biancoverde. L'Avezzano mette la testa in avanti al decimo ed è subito vantaggio. Pendenza difende il pallone a centro campo, inventa un filtrante per Spinola che fulmina calore e porta i suoi sull'1-0. Il Delfino reagisce al quarto d'ora ma Lupo non impatta col pallone, cestina l'occasione. L'Avezzano si fa pericoloso con il pressing alto, i biancoverdi recuperano palla da buona posizione, poi Braghini si libera bene ma c'entra in pieno la traversa. Il 4-2-3-1 disegnato da Torti non riesce a scardinare le linee del Delfino che in profondità trova pane per i suoi denti. Tine Mori avanzato sulla destra diventa così un fattore e al trentunesimo porta i suoi sull'1-1. Il 7 punta sulla fascia Castro, si porta palla sul sinistro e supera Patania sul primo palo. La replica biancoverde arriva da piazzato e Castro colpisce il secondo legno di giornata. Nel finale di tempo, occasione per pendenza che spara alto e non impenserisce calore, sarà l'ultima giocata della partita per l'ex cupello, costretto ai box all'intervallo a causa di un risentimento muscolare. Al suo posto Vincenzi con Spinola al centro dell'attacco. La prima occasione della ripresa è dell'Avezzano ancora con Braghini che va via a Tine Mori, deviazione che manda il pallone sul fondo. Proteste ospiti al quarto d'ora per l'atterramento in area di Marzucco. Dure parole di mister Bonatti nel post partita all'indirizzo del direttore di gara, Cavacini di Lanciano. Sul contropiede seguente, discesa di Spinola che spara alto da buona posizione. Girandola di cambi da ambo le parti, Torti inserisce Di Virgilio e Blanco per Ica e Braghini. Bonatti replica con Dincecco per Gobbo. Prosegue il forcing dell'Avezzano. I biancoverdi ci provano prima con Vincenzi, poi con Di Virgilio, ma il Delfino ad avere la chance più ghiotta al ventiduesimo con Falco decisivo il riflesso di Patania. Al ventiquattresimo ancora scatenato Spinola che trova la girata ma manda sul fondo. Alla mezz'ora altra occasione per Di Virgilio. L'ex Pucetta conclude dall'area piccola ma non inquadra il bersaglio e cestina l'occasione. Al trentaquattresimo altra azione convulsa in area ospite con Vincenzi il più pericoloso ma nessuno preme il grilletto. Al quarantacinquesimo assalto disperato dell'Avezzano ci provano prima Blanco, poi Di Virgilio, ma Calore alza il muro e respinge l'offensiva a Biancoverde. Un punto a testa che scontenta l'Avezzano. Biancoverdi attesi ad un delicatissimo derby contro l'Aquila. Dopo due punti in due partite sarà vietato sbagliare ancora. Mister, per le occasioni create possiamo dirlo è un punto che sta stretto all'Avezzano. Credo di sì, ma sono un po' rammaricato perché i ragazzi hanno fatto il massimo, nel senso che pali, traverse, occasioni create. Poi è ovvio che se non la butti dentro poi alla fine rischi anche di perdere. No, perché alla fine non so adesso non l'ho visto dalla panchina se il calcio di rigore fosse per loro. Però so che queste sono partite che quando hai l'occasione per far gol devi far gol e le devi chiudere perché altrimenti concedivo all'avversario sempre la speranza. Però i ragazzi per quanto riguarda l'impegno hanno fatto tutto il massimo. E ho detto a loro dentro lo spogliatoio che non è finito niente perché dall'altra parte hanno fatto questo pareggio e ho tenuto conto che noi abbiamo una partita in meno. E quindi ipoteticamente siamo a due punti. La partita è importante, comincia ad essere il derby di sabato. Ci prepariamo bene perché io sono convinto che questa squadra se la batterà alla pari con tutti. Adesso parlo perché mi dispiace e basta. Adesso lo dico perché fare il signore la prima partita non è bastato. Ho fatto un accenno al secondo. Il rigore su Marzucco è qualcosa che non si può vedere perché l'arbitro lo vede e non lo dà. A quest'arbitro adesso voglio parlare perché tante volte ci ha arbitrato. Ci ha penalizzato ogni volta che ci ha arbitrato. E sinceramente sono stufo, anche perché siccome le cose si sanno anche, è ora che ognuno si prende la sua responsabilità. Io quando perdo parlo della mia squadra, parlo dei miei giocatori. Avete sentito come ho parlato in interviste precedenti? Adesso oggi sinceramente qualcuno mi deve spiegare, il designatore Lanciani mi deve spiegare, il presidente Memmo, perché il delfino Flaccoporto in tre partite deve essere penalizzato in questa maniera. Allora se dobbiamo fare lo sparring partner, ci dovranno dire facciamoli sparring partner. Allora ci pagate magari le spese, ci pagate le cose, perché in questo momento mi sento preso in giro. Perché un rigore così solare si deve dare.